Vediamo i filtri che abbiamo a disposizione in Business Source Complete. I filtri sono visibili direttamente nella pagina dei Risultati, nella colonna di sinistra Refine Results. Source Types permette di scegliere il tipo di pubblicazione. Di default è selezionato tutti, All Results, ma possiamo scegliere, ad esempio, di limitare la ricerca di Academic Journals per ricercare articoli di carattere accademico. I risultati si sono aggiornati. In qualsiasi momento, se vogliamo cancellare un filtro, ad esempio se volessimo cancellare il filtro degli Academic Journals, basterebbe cliccare sulla X. Un altro filtro molto utile è Subject, Thesaurus Term. Serve per limitare la ricerca solo ad alcuni sotto argomenti più specifici. Clicchiamo su Show More per vedere l'elenco completo dei termini disponibili. Limitiamo ad esempio la ricerca solo agli aspetti relativi alla comunicazione. Quindi spuntiamo i termini che sono relativi appunto a questo concetto. Ad esempio, potremmo spuntare l'argomento della Corporate Culture. Andiamo avanti scorrendo e scegliamo ad esempio anche la Corporate Image. Oppure continuiamo a scorrere l'elenco cercando altri termini che potrebbero essere sempre riferiti alla comunicazione. Ad esempio, Public Relations. Per aggiornare risultati basta selezionare Update. Abbiamo trovato così 1922 risultati. Tra gli altri filtri disponibili abbiamo, che possiamo vedere sotto, anche Geography, se vogliamo limitare la ricerca ad alcune aree geografiche. E poi troviamo una ricerca ad alcune è un altro video per chi rende. Grazie a tutti.